a il 2022 volge al termine come tutti gli anni che volgono al termine bentornati perché questo è l'appuntamento che ormai da dieci anni quasi dichiaramente vi accompagna tutti gli anni stop e flop ovvero due video che vi raccontano quello che ci è piaciuto di più durante l'anno videoludico quello che ci è piaciuto di meno durante l'anno videoludico secondo quali criteri il criterio nostro bravo ovvero il criterio che noi li abbiamo giocati nel 2021 quindi nel 2022 nel 2022 perché pensando al 2023 sono quei giochi che ci ricorderemo nel 2024 vabbè comunque sappiate che i giochi che ci piacciono non sono oggettivamente i giochi migliori dell'anno no ma sono stati speciali per noi sono le nostre top personali quindi anche se anche se come tutti gli anni abbiamo la sorpresa speciale qual è la sorpresa speciale si è una donna i premi speciali no ma che cazzo un quarto d'ora fa l'abbiamo fatto no in realtà l'hai chiamata a sorpresa non ti ho mai sentito parlare tra le altre cose sapete una cosa la cartellina che ci accompagna ogni anno si è persa e dispersa a lucca però ce l'avevano trovo premio speciali e rullino le trombe eravamo orfani di doom prodeus ragazzi c'è ci mancava quel tipo di gioco lì e ci mancava forse pure un po la grafichetta retro e ci mancava forse pure un pochino stare sul divano tutti e due a guardare una puttanata iper violenta coi demoniacci ma prodeus è proprio bello prodeus è l'effetto nostalgia che ci mancava è un gioco in tutto e per tutto alla doom in cui non cambia niente da quello che è il vecchio stile ed è questo che ci ha riportato un po' a casa un po' bambino non è oggettivamente il migliore fps dell'anno però è fatto veramente bene ed è un fps con i controcazzi a prescindere dall'effetto nostalgia e tutti questi che vi diciamo oggi sono giochi che dovreste provare e dovreste magari ecco dargli quella possibilità in più anche per cambiare genere anche se è un genere che non vi piace nel mezzo come al solito gli sconti di instant gaming in basso per arrivare a tutti questi giochi un po' di soldi in mezzo e poi abbiamo un altro premio speciale che si chiama madonna le mazzate need dog 2 need dog è un gioco ormai vecchio il primo capitolo risale a molti anni fa noi abbiamo sempre scagato o madonna quanto è bello è uno di quei giochi che ti fanno passare la mezz'oretta a picchiare le mani unico problema è che quando uno dei due si allena di nascosto diventa più bravo soprattutto a lanciare le armi non è vero che mi allena di nascosto io non ho detto niente perché sei tu che prendi mazzate chi dei due dovrebbe essere ma non è vero che prendo mazzate questo è un altro premio speciale un altro premio speciale vuoi darne tre di premio speciale? no ma passiamo alla quinta posizione vai quinto a posto lego bricktales perché? è un giochino deliziosamente rilassante fino a un certo punto poi cominci a bestemmiare anche la madonna volendo in cui devi riuscire a risolvere dei piccoli enigmi ambientali costruendo con i lego mi è piaciuto perché finora ho giocato tanti giochi lego ok però questo è stato il più coinvolgente dal punto di vista del gameplay non è soltanto bellino graficamente non è soltanto bellino perché ha belle musiche questo mi ha proprio divertito tanto da giocare volevo portarci una serie a un certo punto ho detto no questo me lo gioco per i cazzi miei me lo godo quindi te lo sei giocato da solo senza farcelo me lo sto ancora giocando e ti piace quindi tre parole bello, rilassante, rilassante per me a quinto posto va un genere che ritorna non dico ogni anno ma quasi Call of Duty Modern Warfare 2 perché? perché c'è un ritorno perché è un gioco che ho giocato tantissimo in precedenza e devo dire che la campagna mi dà a parte le parti in aereo mi dà molta soddisfazione e la parte multiplayer è comunque assolutamente divertente come in tutti Call of Duty ottimo l'audio insomma mi dispiaceva non metterlo almeno a questo punto va aggiustato un pochino è ancora un po' claudicante un po' strano durante i caricamenti delle partite i personaggi appaiono scompaiono c'è stuttering un bordello della madonna i problemi di rete non so da che caspito siano il netcode non è proprio il massimo no però si può giocare in split screen molto bello molto bello cioè c'è tanto di bello però va a fanculo come al solito ma io aspetto le patch perché almeno lo so che Call of Duty fra un paio di mesi sarà perfetto sì anche perché è appena arrivato anche Warzone 2 sì sì quindi vabbè ragazzi poi piano piano ci vuole il tempo che ci vuole ne parleremo a tempo debito per il momento si merita tranquillamente una quinta posizione e andiamo alla quarta posizione per te aspetta aspetta perché questo è un gioco nuovo io so che voi non ne avete mai sentito parlare probabilmente è la prima volta che lo sentite in assoluto quindi tenetevi agganciatevi alla sedia potreste sobbalzare allora io odio Skyrim profondamente per un gioco inconcludente sì vabbè stiamo parlando di Skyrim per tutta la vita la gente mi ha detto eh vabbè ti fa schifo perché tu dovevi giocare Oblivion Oblivion sì che era oh alla fine ho giocato Oblivion ma lo sapete che nonostante sia una merda del combat system come Skyrim il gioco in sé mi piace tanto e più gioco Oblivion perché sto ancora giocando più gioco Oblivion più capisco perché Cyberpunk è sbagliato più capisco perché Kingdom Come è sbagliato Oblivion dal punto di vista ruolistico li asfalta malissimo li distrugge c'è un ritorno al passato per siano un ritorno al vero passato altro che cazzi Oblivion Oblivion ma quindi tu lì fuori cosa direste ai ragazzi che non hanno mai provato Oblivion ma vi direi non lo provate perché se no se pensate che Cyberpunk sia un gran GDR non provate Oblivion perché vi casca Cyberpunk vi casca per terra e si fa in mille pezzi io l'avevo già intuito che facesse schifo ma da quando ho provato Oblivion ho capito perché nessuno regge il paragone ho capito perché è un altro paio di maniche dal punto di vista proprio del godersi questo viaggio molto tranquillo tranne quando si combatte che purtroppo è una sofferenza però per tutto il resto veramente vedi un mondo interconnesso le cose che fai cambiano altre cose le missioni secondarie sono sempre stimolanti cioè Cyberpunk è la merda è il nulla Oblivion signori nel 2023 ormai Oblivion no no vabbè io niente posso dire che è strano però c'entro un cazzo ma vai avanti il mio quarto posto invece è un giochino che che cosa è venuto fuori per caso ma senza senso sì come le cose belle escono senza senso per me è Spider-Rack perché non potevo non metterlo non annoverarlo in questa top sto giocando tanto da quando l'ho scoperto ecco hanno più senso quelle giornate in cui non c'ho voglia di fare un cazzo sul divano perché io metto sul divano e passo un'ora a farmi le orde da solo è perché è bello e quindi per me questo quarto posto è più che dovuto guarda l'avrei messo anch'io nella mia top però la verità è che mi sarebbe dispiaciuto non inserire tutti gli altri che ho nominato però Spider-Rack sta anche nel mio di cuore è proprio un gioco e ci divertiamo a giocarlo insieme ci facciamo un sacco di risate ritorniamo ai premi speciali sì con il primo Halo che ci è piaciuto signori rullate i tamburi tatapim Halo Infinite raga è la prima volta che prendiamo un Halo proviamo il multiplayer e ci piaciucchia proviamo il single player e ci piaciucchia forza ce l'abbiamo fatta un IP di Microsoft è un IP di Microsoft e poi era partito malissimo ti ricordi come era partito questo gioco? era partito molto male che merda la merda ha anche avuto quel guizzo di vitalità che ci serviva per far riemergere rivivere questo progetto sì 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 bene era bello è ancora bello questo è come ti sono ci sono troppe posizioni nostalgiche in questa nostra è vero questo è l'anno della nostalgia ma sarà perché il decimo anno sì parliamo di Windjammers un gioco che noi abbiamo conosciuto nella sua versione cabinato in cui ci si tira un frisbee lo so ci abbiamo giocato abbiamo fatto anche dei gameplay ci siamo divertiti come bambini e come tutte le volte che un gioco ci piace tantissimo e della fine che sta facendo pure Spider Hack a voi non piace guardare i gameplay purtroppo Windjammers bello però sì veramente bello però anche ti butti però in culo a loro i bot quanto sono difficili i bot è meglio giocare online io non avrei mai pensato di dirlo ma fanno schifo ok qui qui non fanno schifo non è un gioco per bambini ma vabbè sì il premio non è un gioco per bambini ma vabbè ovviamente va a Poppy Playtime il gioco che ha terrorizzato tutti i genitori del pianeta Terra però ha cioè effettivamente è diventato un tormentone tra i bambini con tanto di pupazzi che si trovano ai cinesi sì a tutti i costi guarda 3 euro 3 euro 54 euro 4 euro 50 allucinano tutte le grandezze e i bambini di tutto il mondo a bambini di tutto il mondo piace ma è terrificante è terrificante anche perché non è pensato per i bambini è un gioco per adulti a tema giocattoli demoniaci e che però ovviamente non dovrebbe essere fruito dai bambini ma a noi come progetto è piaciuto molto il gioco è davvero tanto curato graficamente delizioso e tra l'altro anche la formula di vendita non è sembrata geniale piccoli capitoli che vanno ad aggiungere di volta in volta nuovi pezzi di questo intricato puzzle narrativo a tema ludico è piaciuto dall'inizio perché poi non ci aspettavamo star noi ci aspettavamo la merda noi ci aspettavamo molto di peggio invece molto bella la storia che comunque ha un un incipit bello forte ha un incedere bello forte e con i giusti jumpscare che non sono mai banali su un horror del 99% dove fa paura beh ci metti boh a un certo punto sì sì bella costruzione della tensione ci sono veramente delle parti dove ti sfoghi la rilasci la tensione fatto proprio bene bilanciato bene complimentoni e non potevamo non inserirlo così come un premio e questo è un premio della critica italiana vogliamo dirlo perché i Games Award ormai le hanno messe tutte le categorie perché non inventarcene una per la nostranità no? e il premio ma veramente ci aspettavamo peggio va lo stallone di Daniele doesn't matter quando un youtuber a un certo punto si mette a fare un videogioco e tu pensi vabbè lo proviamo è una merda in realtà capitolo dopo capitolo Daniele sta imparando a sviluppare ma sì ma poi ha ributtato a terra il gioco lo ha ricostruito è attento ai bug ecco è un metodico e cerca di andare a affinare piano piano tutte le sue capacità ed è bello fare questa crescita è bello aver giocato l'early access poi quando è uscita diciamo la beta adesso alla discritte ripeto è tutto cambiato però è bravo bravo perché ecco vogliamo vederne di più di nostrani ne stiamo vedendo tanti nella nostra rubrica dedicate ai videogiochi nostrani che effettivamente ce ne sono tanti e sono belli ma sono sono difficili da trovare devi andare lì a cercarli con il lanternino quindi grazie a tutti quelli che stanno aderendo a questo nostro progetto ma io direi di andare avanti con la nostra classificona perché abbiamo il nostro podio arriviamo sul podio il nostro terzo posto posso dirti una cosa questa classifica rispecchia i nostri anni adesso che la vedo nella nella sua integrità si potrebbe essere perché sono succedendo cose no tipo lui che gioco Oblivion io che Call of Duty che dovrebbe essere il mio top titolo capito spara tutto veloce quinto posto ecco e questo terzo posto è proprio la metà della classifica che mi aspettavo da due vecchi di merda Death's Door però però aspetta Death's Door è un gioco bello dinamico bello tosto Death's Door è stato una sorpresa praticamente è un in effetti è un hack and slash dall'alto isometrico molto molto figo in cui impersoniamo un corvo che lavora come impiegato negli uffici della morte c'è stato qualcosa che è andato storto lì ai piani alti lui si mette ad indagare nel farlo dovrà prendere a botte un sacco di nemici sconfiggere un sacco di boss uno più stronzo dell'altro ma anche risolvere dei piccoli enigmi Death's Door l'ho trovato meraviglioso dal punto di vista narrativo perché è veramente tanto intelligente come narrazione l'ho trovato molto bello molto godibile proprio pad alla mano tanta roba bello responsivo insomma è un gioco piccolo ma ha tutte le caratteristiche al posto giusto e lui gioca gli isometrici i vecchi parlando di giochi di vecchi proprio ancora di più per me il terzo posto è Slide Spire è un gioco di carte tra le altre cose faranno anche il gioco da tavolo e quello secondo me è tanta roba è un gioco che mi ha stregato e che ho completamente esploso quando ho scoperto fosse anche per cellulare proprio a livello di ore l'ho finito due volte due volte per eppure sono tante ore cioè comunque quindi bello Slide Spire appassionati di carte dategli una prova vogliamo andare alla seconda posizione poi leggiamo le ultime menzioni speciali e poi facciamo la prima dai facciamo la seconda posizione vai allora va bene nella mia seconda posizione c'è un gioco insospettabile Stray il gioco tutto cyberpunkoso con protagonista un gattino che è uscito in esclusiva per Sony mi è piaciuto veramente tanto non ci sono paragoni ci sono paragoni per me non è un capolavoro di gameplay non è un capolavoro di narrativa è un capolavoro di atmosfera capolavoro di atmosfera che viene vista messa al secondo posto tutto il resto è molto buono c'è da sottolineare che Stray quest'anno anche essendo partito dal basso è stato nominato come goti no goti non ci credo nemmeno game of the year no insieme al god of war e del ring Stray quindi l'hai messo al secondo posto quasi senso tu hai più senso perché non è il primo ma va bene detto tra di noi che siamo pochi intimi possiamo passare agli ultimi premi speciali che sono uno peggio beh no scusa tu devi dire il tuo secondo posto bestia devi dire il tuo secondo posto ma lo posso dire dopo no lo devi di mo che fa me lo fai di a me butti la pietra nascondi il bra vai c'ero quasi riuscito ma che cazzo dici è il del ring come secondo posto perché non me lo volevo bruciare questi aspettavano tutti quanti è il del ring primo è il del ring primo è il del ring primo per me dopo la capitale è il del ring se il 26esimo è già tanto però è vero è il del ring ha le sue pecche che cacata di gioco è un gioco molto bello molto lungo c'è tanto da fare c'è tanto da capire e fino a poco prima che il portone della capitale è un giocone e la capitale insieme a quello che c'è dopo è complesso è complesso è complesso è complesso sbilanciato è un po' un pelino sbilanciato non si nota non si nota per gli appassionati non potete dire che sia bilanciatissima la capitale dove ci stanno due boss per buon culo a loro e quando ne tengono e poi quello che viene dopo eh tra l'altro è il più chiunque ha il più brutto boss finale della storia dei videogiochi peggio di Bubble Man di Mega Man 2 cioè veramente la merda ma continuiamo con le menzioni speciali perché ne abbiamo una per te per me e una per me e una per Nicola di la tua di la tua a verginello mi piacciono le categorie la categoria a verginello a detta a verginello no a 3h quindi a verginello ok pokemon archeos è un legends archeo è un giochino che mi sono vergognato come un pazzo da mettere qui dentro ma effettivamente essendo il mio prima mi sta togliendo il fatto apposta da sotto era storto rispetto alle DS ho capito e ti triggerava triggerava più a me ma ero concentrato su altro pokemon archeos mi è piaciuto è un gioco anche lì dove il loop game si vede lontano la prima voce dal primo mezzo boss lo capisci il loop game è un peccato ma vai avanti vai avanti perché è così godibile così banale così scontato anche nei racconti che vai avanti soltanto per la raccolta di pokemon che è poi quello che ti spinge a andare in giro fare continuare perché ti fa vedere nuove creature a me è piaciuto particolarmente bene punto invece al mio nella mia menzione speciale tutta mia c'è Signalis perché se c'è un genere che io veramente non ho mai tollerato è il survival horror con la gestione dell'inventario metti la roba nella cassa togli la cosa prendila vai a riprendere la cassa rimettila lì in Signalis sta roba rompe il cazzo tale e quale rompe i coglioni da morire però il gioco nel suo complesso ha uno stile grafico un'atmosfera e soprattutto un comparto sonoro veramente affascinante mi sono goduto il primo survival horror della mia vita e desidero fortemente che non sia un survival horror nel secondo capitolo cioè che tolgano questa cosa dell'inventario limitato perché per me è veramente uno stress non è gameplay è rottura di coglioni bene lo proverò perché a me piacciono queste tipologie di gioco invece quindi potrei amarlo alla follia potresti potresti continuiamo con i premi che mi riguardano personalmente perché questo si chiama premio mi vergogno anche un po' a dirlo si range simulico non so potrebbe suonare strano ma fare il rancero andare a coltivare la propria terra in questo periodo in cui vado a ricercare le mie radici in giro per il mondo perché cerco le mie radici ecco penso di averle ritrovate lì all'interno del ranch con i cavalli le galline i suini le bacche io ho montato un suo gameplay su Ranch Simulator lui per metà gameplay passava davanti al maiale madonna quanto è grande quel maiale ripassato madonna che è grande che è il maiale ho scoperto il fattore gaming è enorme quel maiale tutte le volte ho detto questo è lo chiavo fino alla fine e quindi Ranch Simulator è un gioco che è fatto male sviluppato peggio perché ci sono certe cose che non si possono vedere ma la grafica è brutta la grafica è anche brutta ed è quello mi vergogno un po' però è quel che mi fa ecco uscire fuori dal dal mio contesto abituale mi fa vivere una realtà alternativa che vorrei fare ottima ottima menzione questa di Ranch Simulator ma andiamo all'ultima menzione speciale che si intitola so sicuro che sta in top ma so troppe ore per dirlo ora ovvero God of War Ragnarok che stiamo ancora cioè perlomeno che giocherò durante le vacanze di Natale perché l'ho messo proprio in stand by perché voglio giocarlo durante le vacanze che non devo avere nulla da fare che bravo che bravo perché te lo vuoi godere però siamo sicuri che se l'avessimo finito un posto non dico primo posto ma un posto nella top 5 l'avrebbe trovato perché tecnicamente poi le prime ore che abbiamo giocato insomma ci sono piaciute la narrazione è spaventosamente fatta bene un piano sequenza continuativo anche molto studiato la narrativa è ottima mi è piaciuto particolarmente a me Thor perché effettivamente se andiamo per vedere è la divinità e non il figone della Marvel dal punto di vista forse Odino fa cagare a livello di carattere Odino è un po' particolare però ci sta che fosse un po' più sembra il tuo zio con la tunica non lo so però diciamo che in generale è un titolo talmente grosso talmente tanto curato che siamo sicuri che se avessimo gli strumenti per dirlo l'avremmo chiaramente piazzato in top in una delle 5 posizioni della top non in quinta o in prima non lo so però insomma da qualche parte è nel mezzo e adesso andiamo invece alla vetta delle nostre classifiche personali guarda che rispecchiano gli anni ma guarda che sembri più strano tu qua io fregati se sembri più strano tu allora oh Moss 2 per me al primo posto quest'anno c'è Moss 2 un titolo in realtà virtuale metaverso giovane ok con il topino che carini gli animali topino il topino è anche una donna è un topino cioè c'è anche il discorso è una topina c'è un gioco con una topa che fa una bellissima avventura Moss 2 io non credevo che potessero fare così tanto meglio del primo perché già il primo era un piccolo capolavoro ma Moss 2 è uno dei titoli VR più stimolanti e carini che abbia mai provato che dichiarazione d'amore cosa potrei dire io per essere soltanto un apostrofo di tutto il tuo discorso così d'amore tu di questo ti devi vergognare non dei pokemon a te qua ti devi vergognare primo posto per me Vampire Survivors questo me l'ha fatto scoprire Paolo mi ha detto dai provo questo gioco sono sicuro che ti piace maffanculo Paolo l'ho provato 4 secondi l'ho schifato con tutto me stesso perché la grafica era così e poi ci ho messo le dita sopra anche che non devi fa altro te bastano 3 dita se proprio vuoi esagerare potresti fare con 2 ma se vuoi esagerare un po' le dice se proprio vuoi essere pro 4 poi mi fai il granchio no Vampire Survivor è un titolo uno di quei titoli cattura ore dove fai cose in maniera ripetitive ma l'incedere del gameplay tutte quelle lucine a schermo che mi ricordano un sacco le slot machine quando vinci poi tutta tutta la scatenata crescita dei vari componenti delle varie armi dei personaggi che hanno ognuno un'abilità ecco me l'ha fatta adorare quel gioco perché il loop game la lo vedi ma non te ne frega un cazzo è così che ci ho fatto più di 150 una roba così io sono sicuro su una piattaforma adesso ce l'ho pure sulle altre ecco io sono sicuro che sotto ai commenti nessuno avrà una classifica perché noi vi spingiamo sempre a fare una mini classifica di tre titoli no? dateci la vostra top 3 ma io sono sicuro che nessuno si avvicinerà neanche lontanamente alla nostra perché sono veramente strane sono molto strane ripeto è il decimo anno la vecchia la si vede e quindi dobbiamo farla la nostra top 3 Death's Door Stray Moss 2 per me per Nicola Slade Spire Elden Ring Vampire Survivors però diciamo è nel mezzo del cammino comunque io so che a questo punto siete curiosissimi di vedere la nostra flop arriverà arriverà e noi vi ricordiamo che abbiamo creato un gioco da tavolo che si chiama Incipit se gli volete dare una possibilità durante queste vacate mettetevi in terza posizione a me